Come si partecipa al voto dei comites? Ci si deve registrare nell'elenco elettorale del Consolato di Appartenenza. Solo chi si iscrive entro il 3 novembre 2021 potrà votare. Ma come si vota? Per corrispondenza. Una volta fatta la domanda, l'ufficio consolare invia a casa un plico con il materiale elettorale. Si esprime il proprio voto seguendo le istruzioni, quindi si restituisce per posta al proprio ufficio consolare la scheda utilizzando la busta già affrancata contenuta nel plico. Chi può votare? Tutti i connazionali maggiorenni residenti e iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero da almeno sei mesi rispetto alla data delle elezioni. Chi può essere eletto? Tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali e amministrative. Ricorda, la scheda votata va restituita entro le ore 24 del 3 dicembre.